Ehi ragazzi, benvenuti per il tuo partito del canale, io sono Magnus, siamo sopra qui sul Neo2 Abbiamo sconfitto la Vipera, che è stato praticamente un'odissea Ci abbiamo messo un sacco di tempo, ma da soli siamo riusciti a sconfiggerla Naturalmente la vostra video è quasi un zoom, un bel commento, un bel mi piace Allora, dobbiamo praticamente, penso a questo punto, a cambiare mappa Perché procede dalla regione successiva Vediamo dove andiamo Il primo mondo preso da cui presto servizio fu Odu Nobunaga, il giovane e soprano della provincia di Owari Nobunaga aveva grandi ambizioni militari e provava attrazioni inadeguabili verso l'ignoto Un uomo risoluto da toti di grandi, alcune risprezzavano coloro che gli ponevano a chiticare la fede A questi sottotitoli, porca misera, un po' più lenti Nobunaga aveva un po' più lenti E vabbè, inutile dilungarsi, tu parli facile Siamo saliti ancora di livello, perché ho fatto alcune missioni secondarie E... forse... Ah, tra l'altro poi abbiamo un'abilità, grazie alla pipera che abbiamo sconfitto È qualcosa di spettacolare Ve la faccio vedere La utilizzeremo sicuramente O Mnuno Mnuno Siamo arrivati a tutti i miei figli di Toro Kichiro. Sono i miei figli di Hide... Ah... Hide Chio. Questo giorno... Vi ringrazio il mio figlio e vi ringrazio il mio figlio. Unno è un po' più grande. Vado a vedere il mio occhio. No, non è vero l'unica prima di vedere l'unica prima di vedere l'unica prima di vedere l'unica. Siamo tutti i nostri clienti di oggi. Non ci vediamo? Grazie a tutti! Non ci parlare di un imperai per cortesia Punto di partenza Ok, quindi questo è il punto di partenza Perfetto, quindi andiamo di qua Mi sembra degli oscuri mostri di Okehazama Andiamo? Che soppresa, non mi aspettavo che accogliesse degli stranieri così facilmente Senza sapere nulla di noi Il buon vecchio Tokichiro deve aver fatto buona impressione Comunque qui la situazione si sta complicando Sembra che il nemico stia mobilitando una considerabile armata in questa zona Immagino che questo non basti a dissuaderti dall'andare là fuori e rendere utile Vero? Quanto a me non ho alcun interesse nel battermi Lascio a voi l'onore Vabbè Nella provincia di Ovario Occidentale In un avvenamento circolando da montagne scorcese Sorge Okehazama L'ampia copertura ai lati delle montagne Offre un ottimo rifugio per le truppe E' spesso usata come accampamento durante lunghi spostamenti Nonostante una pezza della valle La ristrettezza Vabbè Diciamo a volte trasportare dall'avvento è possibile Cose geografiche Piove pure Fantastico Quando abbiamo il caschetto Nonostante una pezza Nonostante una pezza Sì, Sì. Sì, sì. No, 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 no. Questa è un'arma abbastanza lunga, eh? Non ce l'ha lunga, quindi attenzione. Ha un raggio d'azione che ci potrebbe dare fastidio, vabbè. Ce ne occupiamo sicuramente alla fine, 1560. Ci dai qualcosa? vabbè non ci da niente si è ma vita che stiamo dimostrando che cosa dobbiamo fare allora vediamo innanzitutto se possiamo ancora sviluppare qualche cosa perché non mi ricordo infatti io personalmente volevo un pochettino migliorare la forza e addirittura tutti questi punti allora la forza sicuramente la aumentiamo aumentiamo un po' di costituzione e anche un po' di cuore ok? dai abbiamo assorbito un sacco di roba andiamo avanti? eh sì questa è una scala rotta per cui non si arriva una mazza ah già partiamo? no ah ok vabbè stai tranquillo ci dai qualcosa? ok non ci dai niente prima all'inizio chiedendo di richiedere ci fai passare scusa ah non posso si voglio che ti sposti non temere danza ben fatto confuso capriolo all'indietro fatti sotto fatti sotto fatti sotto ok mamma mia ci abbiamo messo 30 minuti per fargli capire che si doveva togliere eh meno male che l'ha capito adesso non abbiamo ancora beccato nessuno ah tra l'altro voi mi avete detto ecco qua tra l'altro voi mi avete detto anche quando abbiamo problemi attenzione qua non vorrei che ammigare qualcuno in testa eh quando troviamo qualcosa a te ecco vedete non poteva essere volgare ok ok allora di qua sembra tutto rotto per cui andiamo dall'altra parte allora in pratica ecco qua c'è sta qualcosa in alto no oh quanto li vado quando ce ne stanno eccoli qua quando siete tanti siete sempre un problema ok no qua ho sbagliato devo prenderci un po' la mano è andato è andato vabbè tanto siamo carichi quindi è meglio che le consumiamo queste cose allora là già c'è c'è un fantastico gentilomo questo ce lo becchiamo non c'è sta niente qua eh cerchiamo di stare attenti allora di là abbiamo detto che c'è qualcosa ecco qua ecco qua allora là ce ne sta un altro non so come andarcene di là o di là oh quante insennature che ci stanno porca miseria allora noi siamo venuti di là ok iniziamo da qua ok qua c'è qualcosa e quindi partiamo da qua aspetta tra l'altro poi c'è pure quest'arma che non sarebbe molto male allora vai dai oh addirittura ogni fine qua dobbiamo prendere un po' le misure all'inizio devo prendere un po' le misure ma sono due giorni che non ci gioco quando non ci giochi per due giorni ma già pare come se non ci giocassi da una vita ma c'è qualcuno ah ma si sale qua porca miseria allora si sale ma la scala non sta da nessuna parte però no no l'unica scala siamo sicuri che non si sa non si sa ehi ciao che fai nasco di là dietro eh no praticamente quello là che mi chiede che c'è qualcosa ho capito che se gli dono qualcosa poi mi da qualcosa anche lui vabbè di qua non si può andare per cui andiamo da qua e dobbiamo stare attenti a questo avete visto quello della libera quanto è attenzione che sta qua eh ma poi avete visto che danno che fa non riesco tanto a combattere qua dentro vai ok dai bella questa lo so ogni tanto dovrei provare a fare la cosa esplosiva ma a volte me ne dimentico anche per adesso ci sta uno non c'ho già ormai già abbiamo finito i gruppi qua dentro ok ah questo è quello vedete il palazzo ci colpirà no no ma che è qua a terra è quello che no no non è quella che gli dobbiamo ordinare dare qualcosa vabbè fa niente allora voglio capire bene perché ah no non è chi è quello ma ma occhio eh ma lanci sempre mazza fai male però dai dai e quando abbiamo mostri diversi sto utilizzando poco il richiamo qua la ricarica che hai dobbiamo stare attenti allora di qua sembra un'altra strada e di là ok oh siamo due strade completamente diverse ah eccolo qua è questo vedi allora che gli diamo se gli do qualcosa a volte ci dovrebbe dare qualcosa di buono oh ma questa questa non l'ho caricata è qua allora vediamo un po' rilascia equipaggiamento potenza eh potenza eh velocità di recupero dai allora gli rilasciamo eh qua vi lascio una cremisi 187 oh questa è meglio no praticamente questa è quella meglio di quella che abbiamo 286 296 eh no praticamente questa potrebbe essere migliore di quella che abbiamo eh sì perché questa è 177 questa 187 ci dà più eccola qua corruzione no noi abbiamo più corruzione però c'ha danno colpo di grazia maggiore blocco no è meglio questa va bene quindi equipaggio questa e gli lascio questa dai vediamo che ci dà allora mamma mia vabbè frutto della pietra l'antena eh questo non è male perché spesso lo utilizzo allora devo capire a questo punto ah di qua vedi si scende e si va avanti però eh buttalo ah no ok questa è la parte iniziale secondo me quindi ci abbiamo buttato giù quindi dobbiamo andare all'altra parte ok che è questa no niente allora attenzione perché i nemici sono diversi i yokai sono diversi per cui quando sono diversi ci attaccano diversamente ed è uno dei problemi di questo gioco perché a volte non sai bene come ti devi difendere eccolo qua ok eh è una mara che siamo stati attenti è andato vediamo un po' che bei capelli che c'hai dai oh è quasi andato dai veloce ok sei pure caduto di qua ok la si procede e c'è quindi qua possiamo entrare che è strano qua sopra sapete pare come se uno fosse entrare occhio qua dentro qua ci attaccano ah ciao tu ci dai sempre una mano sei sempre bene accetto dai vediamo di capire con chi dobbiamo lottare adesso ci vedi per esempio com'è che qua sopra si può beccare come se lo becchiamo pure là sopra è sempre strano allora attenzione qua dipende un cosa di questo così ah vabbè ma sei tu ma guarda faccio sempre la stessa cosa mannaccia la miseria una cosa che mi nervosisce tantissimo ci stai ancora qua ah meno male cadiamo sempre giù ma guarda una cosa cioè non sapete quante volte sono caduto nell'acqua cioè nel senso tu magari riesci a fare dei combattimenti spettacolari poi arriva un cretino dai qua me la siamo giocata male ok 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 dai ok me la sono giocata un po' meglio meno male ecco abbiamo sbagliato quindi ho capito che uno dei pericoli di questa zona è cadere giù che può sembrare una cavolata no 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 non è una cavolata si cade si cade allora a questo punto credo che se vado di qua mi posso beccare sì questo qua vedi ah ok infatti c'è un video come cavolo si fa a beccare quello così ok quindi allora di qua c'è un ponte da là pure c'è un altro ponte ehi poi c'è uno mamma mia c'è mancetto fanco fatto iniziale ce ne sta un altro ok ah questa l'odio a morte questa è una di quella che odio di più ecco capite perché la odio ecco perché la odio vediamo se riesco ad un solito a beccarla ecco ok meno male meno male io la odio a morte a questa lo dirò all'infinito allora là se sì tanto ci sta ci sta l'albero allora chissà se a questo punto abbiamo sbagliato strada oppure no ah stai qua stai ok mi sta lanciando ancora le cose sì allora vediamo di capire io proprio mi ho saputo è che sta lì dall'albero allora il fatto che sta lì dall'albero aspetta stiamo altro dietro lo so non so se è l'unico oppure no ah ci sta pure la donzella là porca miseria allora dove sta non la vedo più ok ma porca miseria ok meno male meno male meno male ok se noi dobbiamo andare dall'altra parte comunque grande che mi dai anche il recupero totale fantastico ok meno male che non sto consumando niente non vorrei che secondo me dobbiamo ritornare un'altra volta indietro perché da lì non sono andato questa è una zona bruttissima perché non si vede una mazza e se hai problemi di colori sei fottuto secondo me ecco ecco cadi quella misera misera la misera no 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 dove cavolo sta non lo so ok ah non mi far cadere ti prego dai ok ok meno male la ipera è fantastica avete visto stavamo cadendo stavamo cadendo ma pure avvelenato mannaccia a te mannaccia ci abbiamo qualcosa per cui è sta cosa dell'avvelenamento oggetti mi pare che ce l'avevo dove cavolo stava quello per l'avvelenamento mannaccia c'è una miseria era tipo sembrava tipo riso visitatore no ma tanto ormai è finita no ok allora ci stiamo un po' troppo a lontano ah vedi là ci sta cosa per cui però ritorneranno un'altra volta io la miseria ok e allora secondo me devo tornare indietro dai ok abbassa questo questo si abbassa si secondo voi ok attenzione ma di qua accorcio penso vero si mi sto un po' perdendo mi sto un po' perdendo ok di qua non sono andato quindi vabbè ah ok a volte ho sempre paura qua bisogna stanno fingere qualche cosa eh qua non c'è nessuno quindi dobbiamo andare indietro poi dopo allora ci sta sempre la nostra fantastica donzella qua dentro pare che non ci sta nessuno ma l'altro non posso aprire niente ho capito questo ah ci sta quell'altro ci sta belli capelli ci sta è macellaio ok vai vai ok attenzione vai vai ah l'ha becchiato sto bastardo vai vai ma porca miseria oh ma chi è che l'ha becchiato ma sto ma miseria bella questa bella questa ok ho capito dai manca un colpo vero si oh ancora non è morto guarda ma che vengo là dove stai guarda sto cretino speriamo che stai da solo vedi poi hai fatto una brutta fine occhio che qua non so che ci ah ce ne stanno altro posso sbagliare si miseria che ha fatto è soltato giù ah si si vieni 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 non scherziamo non scherziamo che poi lo facciamo alla fine dei frissi ho sentito qualcuno qua su però sbaglio no no si dai esci esci e dai forza ma non ho capito chi c'è sta là no 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 porca miseria perché ok sta qua dentro e cerchiamo di stare attenti eh porca di quella miseria ma porca paletta porca alzati ok la miseria dai l'abbiamo fregato allora là ci sta quello che prima ah non c'ho più mannaccia non c'ho cosa per colpirlo mo ci martellerà per tutto il tempo vediamo se siamo fortunati che riesco a beccare qualcosa qua dentro no eh vabbè se lo riesco ad attivare a me ah vedete che forse no non c'ho niente mannaccia vediamo se riesco a farla arrivare un po' verso di me se no mi romperà tutto il tempo le scatole dai vieni ok ok dai ok ok qua me la sono giocata male dai ok ma c'è bisogno si si prendi 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 ok ah abbiamo sblocato tutto si perfetto no c'era una cassa se non mi sbaglio curiamoci che è meglio si la cassa ci sta qua non c'è niente qua qualche misura allora a questo punto non so se dobbiamo andare all'altra parte oppure munizioni fucili ah grande ma mi tolgo pure la scatola è quella che sta là sopra dove stai ok ci sta più non ci sta più veramente qualcuno sta qua è andato ma dove cavolo sta ah sei sceso bella questa ma fa niente ok allora di qua ce le possiamo prendere di là si può salire attenzione qua dentro perché non vorrei che ci siano no nessuna visita ok allora a questo punto dobbiamo andare all'altra parte no ok messa di si ah quindi torniamo indietro va beh fa niente meglio vedere soltanto se qua c'è qualcosa per noi pare che non ci sta niente qua salghiamo salghiamo salgo un attimo eh no aspetta questa è un'altra zona no ok 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 si si bastardo ah sei un uomo o una donna non lo so allora e di qua dove cavolo stiamo andando scusate un momento perché noi qua non siamo andati ok vabbè qua è chiuso comunque meno male ho fatto tutto il giro e neanche abbiamo becchiato comunque di là dobbiamo andare sicuramente però non ho becchiato per salvare eh ho sbaglio non lo so ah ok sta là meno male meno male ma penso che sia quello di prima eh penso di sì possiamo penso salire sì nucleo ah vedi possiamo purificare un po' qualche nucleo questo no questo nemmeno questo che fa questo ma diventiamo però dopo mi avvicino un po' troppo però consuma molto poco non è male no però adesso mi tengo quello che abbiamo dai le vediamo un pochettino più in là qui certo abbiamo abilità a una distanza e anche poi tanto destrezza arco ci abbiamo più vita magia magia mi aumenta questa potenza nel corso invece il livello di qua dai così salgo anche un pochettino di livello allora voglio capire a questo punto dove cavolo siamo di qua orca misera che cavolo è qualcosa che sto là vabbè secondo me questo lo facciamo nel prossimo episodio ci vediamo al prossimo video bye bye un pochettino a